La pesante sconfitta subita nel derby contro Trapani non poteva non avere delle ripercussioni in casa orlandina e la prima testa a saltare è quella di Bryce Johnson. Il lungo statunitense andrà in Francia a Rouen per continuare il campionato nella massima serie d'oltrealpe. Ad ufficializzare l'ingaggio è stata la stessa società francese, mentre l'orlandina non ha ancora comunicato nulla e non è dato sapere se Johnson prenderà parte alla trasferta di Rieti. La gara si disputerà domani alle 17 al Palacio Journais in diretta su Antena del Mediterraneo. A presentare la partita nel delicato momento affrontato da Capodorlando e il general manager Peppe Sindoni. Sicuramente la giornata di domenica è stata da cancellare sotto tutti i punti di vista. Abbiamo messo in campo una prestazione che non crediamo onori i colori dell'orlandina basket e abbiamo tutti quanti il compito di fare in modo che si esca da questa situazione al più presto. Noi come club abbiamo deciso sicuramente di intervenire in maniera importante. Vogliamo aumentare le possibilità di centrare dei successi fin da subito e abbiamo dato tante chance, ne daremo ancora, però il tempo stringe e dobbiamo trovare un nucleo di giocatori sul quale fare affidamento, possibilmente intervenire aggiungendo qualcosa e andare verso un rush finale che ci deve necessariamente vedere vincitori. Rieti sarà una prova molto importante, è una squadra che abbiamo già battuto nella gara di andata, che è molto efficace e pericolosa sul campo di casa. hanno inserito un nuovo giocatore come Anthony Raffa che è sicuramente un gran realizzatore e potrà dargli una mano, però credo che i nostri giocatori, ma prima di tutto le persone sulle quali abbiamo deciso di investire tanto sia in termini di risorse che in termini di fiducia, risponderanno perché devono rispondere.